E' stato completato a Mazzarino il potenziamento della linea fanghi del depuratore, ne dà notizia Caltacqua che lo gestisce. Ci sono voluti circa tre mesi di lavoro, ma con l'ammodernamento del comparto di disidratazione dei fanghi, si ridurranno notevolmente i quantitativi di fango da smaltire nei centri di recupero e dal momento che è stata ridotta anche la presenza di umidità, si otterranno anche risparmi energetici. Grazie a tutti.